Sicuramente non siamo sotto gli effetti di quella che era la prima fase della pandemia, ma il commercio fa fatica a riprendersi, il Comune di Chieti ha prorogato quello che sono degli aiuti per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico. Assolutamente, abbiamo prorogato fino al 31 marzo la gratuità delle occupazioni del suolo pubblico per i pubblici esercizi, per le attività artigianali, per le attività alimentari. Lo abbiamo fatto convinti di voler supportare la categoria in questo momento così complesso, lo abbiamo fatto recependo quelle che sono le linee guida governative, cogliamo anche l'occasione insieme al nostro sindaco per complimentarci con le attività commerciali nella nostra città per quanto stanno facendo nella gestione di questo momento pandemico, adeguandosi a tutte quelle che sono le normative di contrasto all'emergenza da Covid-19 a livello governativo, ma lo stanno facendo assurgendo un grande senso di responsabilità perché soltanto attraverso il rispetto di queste misure che si potrà ripartire in sicurezza ma ripartire in maniera piena. E noi con questa vicinanza nei confronti del tessuto economico della nostra città l'abbiamo voluto rafforzare, abbiamo voluto andare a rimpinguare questo concetto perché riteniamo che ci sia davvero bisogno di una ripresa, ma noi come istituzioni siamo vicini, l'abbiamo sempre dimostrato anche questa volta con questa proroga. La vostra è un piccolo aiuto, un piccolo voler sta vicino a queste attività, ma di che cosa ha bisogno proprio il commercio per ripartire dopo la pandemia? Questa è un'iniziativa, poi stiamo lavorando insieme alla categoria per arrivare a quella che sarà una vera e propria fidelity card del commercio cittadino, lo stiamo facendo insieme alle associazioni di categoria della nostra città. Riteniamo che dobbiamo tornare ad un concetto che noi abbiamo sempre perseguito nel nostro insediamento che quello del centro commerciale naturale, dividendo poi la città anche in aree perché abbiamo una città talmente bella e così completa dal punto di vista delle proprie aree, delle aree che la caratterizzano. Dobbiamo valorizzare le attività sul territorio, è ovvio che riteniamo di poterlo fare insieme alla categoria perché questa è una sfida che si vince giocando come una squadra.